Cominciamo questo speciale di vita in diretta con un po' di ritardo, con un bel po' di ritardo e Lamberto non si è sentito bene, stavamo per partire alle due, ha avuto un leggero malessere comunque insomma sembra che tutto stia andando bene e si stia riprendendo Lamberto ti aspetto come sempre per baciarti